cosa ripariamo oggi oggi abbiamo un iphone 12 che non prende la rete e nessun servizio andando a digitare asterisco cancelletto 0 6 cancelletto non ci compare neanche l'email quando è così vuol dire che baseband o pm della base ma sono compromessi o qualche linea che comunque dalla dal modem va verso la cpu o la logica superiore abbiamo fatto un po di verifiche ma non abbiamo trovato il problema quindi procediamo allo swap di baseband wifi dovrebbe spostare anche la e prom ma noi abbiamo il programmatore quello che avete visto blu che andiamo a copiare la le prom originale con sopra quella donatrice quindi l'intera scheda che vedete la l'operazione di pulizia dei chip abbiamo ripulito bene la scheda madre anche da stagno vecchio flusciante e regina stiamo effettuando il reballing dei due integrati quindi baseband e wifi andiamo a posizionarli per risaldarli sulla scheda nuova questa qua è stata fresata con la cnc ripuliamo l'interposer dallo stagno vecchio velocemente e ora andiamo a eseguire il reballing delle del layer rf andiamo a porre stagno 138 gradi poi andremo a fonderlo con la pistola termica e poi appoggeremo tutto super riscaldatore layer inferiore layer superiori sovrapposti per far fondere tra di loro lo stagno abbiamo finito ora andiamo a testare la nostra scheda prima diamo una bella pulitina andiamo a fare il test con la sim vediamo che si accende tutto rileva la sim e andiamo a fare tutte le prove del caso vi ricordo bellissimo corso che si svolge a roma corregua partecipate numerosi ciao ciao